Gli evangelisti sono testimoni dell'azione di Gesù per i poveri, i malati, i peccatori. Si trova davanti a una donna peccatrice che sta lì per essere uccisa con la sassaiola e Gesù dice a questa donna e gli altri dove sono non ti hanno condannato. No signore non ti contanno neppure io, vai in pace e non peccare più. Non sono i santi che hanno bisogno del medico, è il peccatore e Gesù ama il peccatore perché vuole guarirlo dalla malattia del peccato. A Cana non è giunta la mia ora dice alla mamma sua che fa notare che non c'è il vino, è finito il vino, non è ancora la mia ora. E poi compie il miracolo di cambiare l'acqua in vino perché non può sopportare che una festa di sposi che sono nell'allegria, nella gioia, che devono cominciare un cammino bello, radioso, gioioso, finisca male con una brutta figura e compie il grande miracolo. Chi lo sa se in quella occasione ci fosse stato, anziché Gesù, il sindaco con tanto di fascia al petto, con tutto il rispetto dei sindaci, ma io penso che i miracoli di cambiare l'acqua in vino proprio non sono capaci di farlo. E la parabola ancora del samaritano dove si nota ancora di più la forza di Gesù che va in cerca della pecorella smarrita, lasciata morta lunga la strada del deserto. E la ferita grave di Gesù è il peccato e egli ama i peccatori, cioè rifiuta il peccato ma ama il peccatore e cerca di portarlo sulla strada buona. L'amore misericordioso di Dio, la parabola del figlio prodigo e il figlio, come dire, un po' scapestato, diremmo anche moderno, che vuole la sua quota di proprietà e va via libero senza le regole della casa del padre, niente. E poi si trova nella miseria e chi è che soffre di più? Il figlio che è andato via e che ora sta a guardare i porci o il padre che avrà detto un figlio scapestato, dispiace, ma se ne è andato. E invece non è stato così. Mentre il figlio spendeva i soldi, il padre era sull'uscia della porta a vedere se tornava. E la vita del padre non è stata altra che un'attesa continua e sofferta. Tornerà, non tornerà. E quando proprio guardando lontano vede qualcosa che si muove e riconosce che il figlio lascia la casa e corre verso il figlio, lo abbraccia. Il figlio si era imparato a memoria la strapoletta che doveva dire, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degni di essere chiamato tuo figlio. Il padre, mentre lui parla, lo abbraccia, lo alza, lo bacia. Il suo figlio era morto ed era risuscitato. Festa. Prendete l'anello, rimettetegli l'anello della dignità alla mano. Prendete i vestiti, ammazzate il vitello grasso. E' la scena bellissima che Gesù ci racconta con molta freschezza, che ci mostra proprio la gioia sua, la gioia di Dio padre, quanto un peccatore si converte. E l'amore di Gesù non esclude nessun uomo. Vi è un centurione che tiene un servo, che è ammalato, un centurione romano, un pagano, non ero un ebreo, e va a chiamare Gesù. Il mio servo sta ammalato. Ora vengo. Ma, signore, non c'è bisogno che ti muovi e vieni nella mia casa, perché io non sono degno che tu entri nella mia casa. E il signore viene e va, e va e guarisce quel servo. Quindi, anche gli esclusi dalla fede ebraica partecipano all'amore di Gesù. L'amore porta Gesù sulla croce. deve salvare non un amico, non un uomo, non un gruppo di poche persone, non una famiglia. Deve salvare l'umanità. E quindi deve spargere il suo sangue per tutti gli uomini. L'amore domanda amore. E quindi bisogna riportare la nostra vita alla fonte della grazia. Non essere indifferenti. Perché oggi, come oggi, c'è una perdita dei valori. Ai tempi di San Francesco, San Francesco andava gridando per le strade l'amore non è amato, l'amore non è amato. Oggi Padre Pio andrebbe gridando l'amore non è amato, ma anche l'uomo non è amato.